Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di un'auto che incarna perfettamente l'equilibrio tra eleganza, lusso e prestazioni. La Ferrari 212 Inter, un modello che lascia una tappa cruciale nella crescita della Ferrari, consolidando il marchio come sinonimo di eccellenza, sia sulle strade che in pista. Questo capolavoro degli anni 50, prodotto in un periodo in cui Enzo Ferrari stava rafforzando la sua reputazione a livello internazionale, è stato fondamentale non solo per le immagini del marchio, ma anche per il futuro del design automobilistico. Seguiamone l'evoluzione insieme, esplorando la sua storia, le sue specifiche tecniche e il suo impatto nel mondo delle auto sportive e del lusso. Per capire appieno l'importanza della Ferrari 212 Inter, dobbiamo tornare alla fine degli anni 40. La Ferrari era una giovane canizia automobilistica, fondata da Enzo Ferrari nel 1947. In quegli anni, Ferrari stava guadagnando rapidamente fame, grazie alle vittorie nelle corse e alla produzione di auto sportive ad alte prestazioni. Ma il desiderio di Enzo era anche di affermarsi come produttore di vetture stradali di lusso. La 212 Inter fu introdotta nel 1951 come successore della Ferrari 195 Inter. rappresentava un'evoluzione naturale della serie di Gran Turismo, iniziata con la 166 Inter, ma con caratteristiche migliorate sia in termini di design che di potenza. La Inter, nel nome, indicava chiaramente che si trattava di una vettura pensata principalmente per i clienti privati e per l'uso stradale, anche se alcune delle sue versioni erano destinate alle competizioni. Questo modello fu realizzato in un'epoca in cui Ferrari cercava di consolidare la sua immagine di marchio di prestigio, capace di combinare eleganza e potenza. Il design della 212 Inter era frutto della collaborazione con famosi carrozzieri dell'epoca che realizzarono versioni iconiche per ogni esemplare. Tra questi figuravano nomi leggendari come Pirinfarina, Vignale e Ghia, che hanno reso ogni auto, un'opera d'arte su misura. Una delle caratteristiche che rende la Ferrari 212 Inter, cosa speciale, è il fatto che ogni esemplare era unico. A differenza delle moderne produzioni in serie, negli anni 50 Ferrari collaborava strettamente con i carrozzieri per creare design personalizzati per i suoi clienti facoltosi. Questo faceva sì che la 212 Inter potesse variare nettevolmente da un modello all'altro, pur mantenendo sempre una raffinatezza e un'aleganza distintiva. Carrozzieri come Pirinfarina, Ghia, Turing e Vignale contribuirono a modellare il design delle 212 Inter, ognuno interpretando l'estetica Ferrari in modo diverso. In collaborazione più significativa fu probabilmente quella con Pirinfarina, che già da tempo stava diventando un partner chiave per la casa di Maranello. Le loro creazioni si distinguevano per le linee fluide e aerodinamiche, capaci di fondere eleganza e sportività. Ad esempio, Pirinfarina optò per un approccio più sobrio e raffinato, con linee eleganti e curve fluide, che sottolineavano il carattere gran turismo dell'auto. Vignale, al contrario, scelse spesso dettagli più adaci e decorativi, creando vetture dall'aspetto più stravagante e distintivo. Questa diversità di approccio nel design ha reso la 212 Inter una vera e propria tela, su cui ogni carrozziere poteva esprimere la propria creatività, mantenendo comunque il DNA esportivo Ferrari. La Ferrari 212 Inter non era solo bella, ma anche potente per le standard dell'epoca. Sotto il cofano si trovava il famoso motore V12, progettato da Gioacchino Colombo. Questo motore era un'evoluzione di quello utilizzato nelle precedenti Ferrari 166 e 195, ma con alcune modifiche che ne aumentarono le prestazioni. Il motore V12 della 212 Inter aveva una cilindrata di 2.562 cm3 e veniva offerto in diverse configurazioni potenzioni di potenza, a seconda della versione. Il motore poteva erogare tra i 150 e i 170 CV, una potenza impressionante per un'auto stradale degli anni 50. Questa potenza, combinata con un peso relativamente ridotto, permetteva alla 212 Inter di raggiungere una velocità massima di circa 200 km orari. rendendola una delle auto stradali più veloci della sua epoca. L'alimentazione era garantita da tre carburatori Weber, che assicuravano una risposta pronta e una grida fluida. La trasmissione è manuale, a 5 marci, una caratteristica avanzata per l'ecopoca, che contribuiva a migliorare le prestazioni e la manovrabilità dell'auto. La Ferrari 212 Inter era dotata di sospensioni anteriori indipendenti, con molle elicoidali ed un asse rigido al posteriore, con balestre. Questa configurazione garantiva una guida confortevole, ma allo stesso tempo sportiva, capace di gestire le alte velocità senza sacrificare la stabilità e il comfort. Sebbene la 212 Inter fosse principalmente una Gran Turismo destinata ai clienti privati, mi mancò di farsi notare anche nel mondo delle competizioni. In particolare, la sua versione più sportiva, la Ferrari 212 Export, trovò grande successo nelle gare di endurance e nelle competizioni su strada. Uno dei trionfi più significativi fu la Carrera Panamericana del 1951, dove una Ferrari 212 Export, pilotata da Piero Taffoli e Luigi Chinetti, vinse la classe e si piazzò terza su rutta. Questo risultato contribuì a consolidare la reputazione della Ferrari, come marchio capace di costruire vetture vincenti sia su strada che in pista. Inoltre, la 212 partecipò a diverse altre competizioni prestigiose, come la Mille Miglia e la Targa Florio, dove dimostrò la sua affidabilità e potenza. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e alla sua leggerezza, la 212 si adattava perfettamente ai percorsi tortuosi e impegnati a vedere le competizioni su strada. La Ferrari 212 Inter ha lasciato un segno indelebile, non solo nella storia della Ferrari, ma nell'intero panorama automobilistico. Questo modello ha rappresentato un punto di svolta per la casa di Maranello, che con la 212 riuscì a consolidare la propria immagine di produttori di vetture vissuose e prestazionali. La sua produzione è limitata a soli 78 esemplari tra il 1951 e il 1952, rende la 212 Inter una delle Ferrari più ricercate dei collezionisti. Il valore di queste vetture è cresciuto nel corso degli anni e chi possiede una Ferrari 212 Inter detiene non solo un'auto, ma un pezzo di storia dell'automobilismo. Oltre al valore collezionistico, la 212 Inter ha contribuito a definire il DNA della Ferrari, un marchio capace di coniugare la pura performance, la competizione con il lusso e l'eleganza necessari per affermarsi nel marchio delle auto del Gran Turismo. La sua influenza può essere vista nelle successive vetture GT prodotte da Ferrari che hanno continuato a seguire questo binomio vingente. In conclusione possiamo dire che la Ferrari 212 Inter non è solo una delle vetture più eleganti mai prodotte, ma anche una delle più rappresentative dell'essenza del marchio Ferrari. Grazie alla sua combinazione di potenza, bellezza e unicità ha contribuito a rafforzare l'immagine di Ferrari come leader nel mondo delle vetture e Gran Turismo. Il video si conclude qui, grazie per la visione, se volete lasciate like, condividete il video per far conoscere il canale ad altre persone e soprattutto lasciate un commento con suscritto il nome dell'auto che vorreste vedere nel prossimo video. Se vi piacciono i video che faccio, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per avere aggiornamenti sui prossimi video. Scusatemi se ci sono molte interruzioni o comunque mi fermo molto, però sono influenzato quindi non ci posso fare niente. Grazie della visione, ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti